e ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella serie top 10 avevamo visto le botti per liquami oggi vediamo i carri per spandere concime sono tanti ce ne sono di diverse misure ovviamente alcuni quali vedo già che ve li ho presentati altri sono qua solo per ricordarvi appunto la sezione devo sceglierne come al solito 10 non che poi l'undicesimo magari siano brutti no ne ho scelti 10 quelli che credevo appunto i più importanti i più meritevoli detto questo ormai la serie sapete come funziona siamo più o meno a metà quindi abbiamo già visto ben più di 20 categorie ed andremo appunto a vederne delle altre ma per oggi ovviamente vediamo questa quindi buona visione e ci vediamo alla fine del video sip orion 25 db gamer 003 polycount sia pc che console avete una larghezza di lavoro di 9 metri una capacità dai 4000 ai 9000 litri in più oltre ad essere un piccolo spandilettame appunto è anche molto carino perché vale su mappe come la valken ad esempio sia si abbina bene lo potete avere anche come pseudo piccolo rimorchio vedete 8000 litri qua vanno fare insilato di mais col monofila quindi duplice vantaggio piccolino che non ce ne sono tanti anche con gli assi di legno che di solito sono tutti appunto di metallo e fa due cose quindi consigliatissimo ragazzi ad est ad est citando appunto l'album dei nomadi ecco qua il force street t 088 un pack di tripla a modding per pc e per console ce ne sono diversi perché vediamo subito qua le varie configurazioni e vediamo infatti appunto dai 12.000 ai 25.000 litri passando fra c'è anche meno perché c'è una versione l'ultima che ne porta 10.000 quindi avete diverse versioni e non solo appunto spandi letame ma in questo caso vedete che può benissimo spandere anche la calce e come nel precedente avevamo anche la versione diciamo da insilato è diversa però è un pack interessante io ve lo lascio qua ve lo consiglio vivamente l'autore lo conosciamo probabilmente lo troveremo e quindi perché no tangerville svl 18 di simulagri modding pc e console se prima siamo andati ad est adesso andiamo verso ovest diciamo 18.000 litri di capienza e 14 metri la larghezza di lavoro è tra virgolette un modello più o meno già visto come forme e tutto quanto però comunque come marchio e come modello a senso ma che è fatto bene l'autore l'abbiamo visto e lo ritroveremo io mi sento ovviamente di consigliarvelo sip orion 120 th questo caso di poly count e ancora pc e console 10 metri per lavorare e 12.000 litri come capacità anche se mi viene in dubbio perché qua lo abbiamo con le sovrasponde e non mi ricordo su 12.000 riflette questa capienza o l'altra quindi l'altro di più però fidatevi che adesso non mi ricordo nonostante volevo dirvi al mio preferito ma se ne sono un altro paio di miei preferiti che l'hanno un po scalzato dalla classifica comunque vi ripeto questo l'ho utilizzato ancora sulla corn house non erro con lo stare ve lo consiglio perché è molto fatto bene e poi sinceramente che è una cosa che guardo poco però anche l'estetica a me piace tanto di questo e quindi straconsigliato veramente quindi veramente scaricatelo e concimate tutti i campi josh king fertig cup pack manu spreader di mef ufs pc e console 9 metri la larghezza di lavoro e qua non indica purtroppo il quantitativo che riesce a tenere ne avete due ne avete due perché avete il mono asse e il doppio asse sono belli sono fatti bene l'autore lo troveremo soprattutto per i posizionabili ve ne ho parlato ancora di lui anche se l'abbiamo già visto per qualcos'altro che ora mi sfugge ma va bene l'unica nota tra virgolette negativa ma non è la negatività della moda è come fatta in sé la moda reale che il doppio asse qua è veramente cioè a portarlo in giro non potete andare in una mappa troppo piccola perché a far le curve veramente è difficoltoso perché sembra piccolo ma in realtà è grande ecco tutto là se no i modelli per me sono più che promossi e quindi consigliati anche per voi coeler stt 180 purtroppo solo pc però una garanzia perché di vertex design 14000 litri 18 metri di lavoro molto bello molto interessante e se non erro vale anche per la calce questo ma non vorrei dire sciocchezze mi pare di aver cioè non mi ricordo esattamente però so che l'ho usato quando vi ho presentato la precision farming quindi anche questo solo per gli amici da pc purtroppo però può essere una una valida alternativa a tutti gli altri o ai soliti span di letame e si ritorna nelle terre dell'hard bus con prt 16 di fssa modding team pc e console autori che abbiamo ritrovato già e che ritroveremo ancora vi presento questo che è la versione diciamo rallata anche in questo caso come vedete potete averlo in diverse configurazioni quindi diciamo sponde il primo livello più eventuali sovrasponde ma anche versioni che potete caricarsi l'insilato quindi fa più e più lavori vi presento questo che ripeto è rallato però dello stesso autore per non fare il doppione però vi ricordo che c'è anche il doppio asse timonato che è usato sull'osina record MR 1600 evo più più 24 metri larghezza di lavoro e capacità qua si è sprecato invece che far 18 mila o 17 e mezzo 17 745 vabbè esagerato ma va bene di belgian 3dm solo pc purtroppo però è un bel carro un bel rimorchio imponente guardate che figura che fa qua quindi anche questo mi sento di consigliarvelo ovviamente poi dovete sempre valutare voi dove andrete ad utilizzarlo e facciamo una capatina veloce in italia col sac s 780 h arduino di smi modding team pc e console lo conoscete bene abbiamo capacità variabili da 27.000 a 34.500 litri e la larghezza di lavoro 14 metri quindi anche questo ovviamente per anche l'etame concime quindi è insilato avete il duplice vantaggio di avere un rimorchio che previo dopo averlo anche lavato magari potete fare due cose e concludo con vertex design con l'anna burger hts 11 d 04 tandem perché c'è anche la versione mono asse e questa volta si fanno perdonare essendo la mod anche per console capacità 9200 litri la larghezza di lavoro segnano fra i 10 e 15 metri anche questo è uno di quelli che vabbè è fatto benissimo perché ci mettono mano sempre sul fuoco per i lavori di vertex design ma in più qua proprio anche esteticamente è un modello che mi piace molto quindi questo e il ship se la giocano veramente a pari merito e quindi consigliatissimo anche questo e niente scaricatelo e concimate come non ci fosse un domani e siamo così giunti alla fine del video e chiedo ora a voi qual è la vostra preferita di quelle che ho presentato ce n'era una o più che non conoscevate scrivetelo nei commenti detto questo un saluto fai bravi e ci vediamo alla prossima puntata di questa particolare serie grazie a tutti